Dubbi sulla tre quarti e sulle corsie difensive per il Bari in vista del match contro la Virtus Francavilla, prima contro terza, si sfideranno allo stadio San Nicola in una gara molto importante in cui ha da perdere più la formazione bianco-rossa che quella di Taurino. Frattali tornerà tra i pali dopo l'infortunio subito a Foggia e l'uscita al 45esimo per un principio di ipotermia. Sulle fasce Puccino insidia Belli mentre Mazzotta si gioca il posto con Ricci sulla sinistra. Terranova e Gigliotti dovrebbero essere confermati al centro con Di Cesare prima alternativa. Appare tutto quasi scontato al centrocampo con Maita Maiello e Derrico che dovrebbero occupare la linea mediana del campo mentre sulla tre quarti sarà ballottaggio a tre e si valuteranno le condizioni di botta con Mallamo e Galano pronti a prendere il posto a ridosso delle due punte che con tutta probabilità saranno Antenucci e Chedira. L'attaccante italo-marocchino dopo il gol segnato a Foggia sembra inamovibile, più defilati alle sue spalle invece Simeri e Paponi.